Un incidente sul lavoro si è verificato in via Padovana ad Arcole in provincia di Verona. Due operai intenti ad effettuare lavori di ristrutturazione sul tetto di una palazzina di due piani, a causa del cedimento del muro di Gronda dove era stata installata l'apparatia antinfortunistica, sono caduti facendo un volo di oltre 8 metri. I vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Caldiero, con un mezzo e cinque operatori, giunti sul posto si sono adoperati per liberare dai detriti e spostare i due feriti in un luogo sicuro, dato che era ancora alto il pericolo di ulteriori crolli e poi permettere ai sanitari di prestare loro le cure necessarie. Uno dei due operai, ferito in maniera abbastanza grave, è stato immediatamente trasferito con l'elicottero presso l'ospedale di Verona, mentre il secondo, trasportato da prima presso l'ospedale di San Bonifacio, è stato successivamente trasferito in elicottero presso il nosocomio di Borgo Trento. Le operazioni dei vigili del fuoco sono continuate, mettendo in sicurezza il luogo e collaborando con i carabinieri di San Bonifacio e lo Spisal di Verona per le indagini.